Situazione difficile, in aeroporto a Rimini crescono gli arrivi di turisti, soprattutto in questo periodo aumentano i passeggeri. C'è grande vivacità all'interno della struttura di Miramare, ma pesano enormemente i debiti accumulati. Il riferimento è 33 milioni di euro che risultano a bilancio. Tra l'altro, corredato da una nota dei sindaci e revisioni che evidenzia uno stato di pre-insolvenza se i primi di settembre non arriverà a liquidità. Un clima pesante, quello che si è risperato ieri sera in Consiglio Comunale, nell'assise riservata alla dedicata situazione di Areatria. Un'infrastruttura strategica al Fellini e su questo tutti sono d'accordo. Maggioranza e opposizione, capace di creare quasi un miliardo di euro d'indotto all'anno, ma i conti vanno sistemati in fretta. La provincia ha già approvato la ricapitalizzazione in settimana, gli altri soci lo faranno a breve anche perché i tempi sono strettissimi. Resta il noto delle banche. Il mutuo richiesto, gli istituti di credito tarda ad arrivare e così diventa decisiva la ricapitalizzazione da 7 milioni di euro. È un panorama molto preoccupante, spiega Palazzo Garampi. Ci siamo trovati di fronte a un grossissimo debito pregresso, causato dagli investimenti per le infrastrutture. Intanto le opposizioni sparano a zero sulla conduzione. In vent'anni di attività consigliare non mi era mai capitato di leggere relazioni così gravi degli organi di controllo sulla gestione di una società pubblica, sostiene Gioenzo Renzi dai banchi del centro-destra. E il PDL chiede un'apertura al capitale privato con un bando pubblico per un cambio radicale della gestione.